Gentili telespettatori, buona giornata. Il Papa vuole tagliare le pensioni. Io direi mandateci il grande sindacalista Maurizio Landini, lui sì che può risolvere la questione. Ovviamente il mio è sarcasmo. E così il Pontefice Massimo annuncia provvedimenti non più rinviabili e nomina un amministratore per il fondo pensioni. Intanto le decisioni di finanziare incombono sul futuro con clave. Qualche mese fa i dipendenti avevano già acceso i riflettori con una lettera, ora una lettera del Papa ai Cardinali ha confermato che il temuto intervento sulle pensioni vaticane ci sarà. E così il Papa ha ammesso esplicitamente che l'attuale sistema non è in grado di garantire nel medio termine l'assolvimento dell'obbligo pensionistico per le generazioni future. Quindi anche dentro il Vaticano il sistema pensionistico non regge. Non regge come non regge quello italiano. italiano. Si dice che quello italiano per il 2028 sarà completamente fallito. Cosa vuol dire? Che saranno di più i soldi che si spendono per pagare le pensioni di quelli che entrano per pagare le pensioni. Quindi nel 2028 si presume che in Italia il sistema pensionistico sia fallito. Continuerà ad andare avanti ma fallito. E così il Kevin Farrell, l'amministratore unico per il fondo pensioni della Santa Sede, viene nominato per mettere in pratica provvedimenti strutturali urgenti non più rinnovabili. Il sistema del Vaticano è stato concepito per sostenere una pensione breve. Ma oggi deve fare i conti con l'allungamento della durata della vita. I dipendenti presenti e futuri, come emerge dalla lettera di Francesco, rischiano di rimanere senza un'appropriata copertura previdenziale. Negli ultimi tempi il Papa si è dimostrato molto sensibile ai conti in rosso della Santa Sede ed è già la seconda volta che evoca il deficit zero, quale uno dei principali obiettivi per perseguire con determinazione e assicurare la sostenibilità economica della nostra organizzazione. Bene, tra le strutture più costose se c'è il di Castero per la comunicazione a cui Francesco fino a ottobre ha annunciato la necessità di fare disciplina sui soldi, poi una sforbiciata di 500 euro anche al piatto mensile dei cardinali impegnati nei di Casteri di Curia, mentre i pensioni li perdevano già diventando emeriti. La stretta sui soldi, inclusa la necessità di intervenire sulle pensioni, si deve alla segreteria per l'economia che dopo le riforme finanziarie è diventato l'organismo più potente in Vaticano. Il suo prefetto, Caballero, il grande sostenitore del raggiungimento del deficit zero che sta portando all'adozione di misure molto impopolari in Vaticano. Tagli a di Casteri, Cardinali, eccetera eccetera, alti porporati. E ora le pensioni di dipendenti stanno generando grande malcontento. I nuovi sacrifici richiesti a Cardinali e il mantenimento delle decurtazioni introdotte ai tempi del Covid potrebbero svolgere un ruolo nel futuro conclave. I membri elettori del Sacro Collegio potrebbero chiedere discontinuità sull'economia, non tanto per contrarietà le politiche di contenimento delle spese, quanto piuttosto per la convinzione che le diverse riduzioni delle loro distribuzioni non siano affatto risolutive ma si riducano a semplici mosse mediatiche. E così il Cardinale Farrell, fedele o fedelissimo di Papa Francesco, deve intervenire adesso su il fondo delle pensioni. Lui, ammaracano, alto porporato americano, dovrà nel prossimo conclave, è diventato adesso camerlengo, affidandogli l'amministrazione della Chiesa in sede vacante. Lui ha numerosi incarichi oggi all'interno della Santa Sede e così si parla proprio di una riduzione delle pensioni. Intanto questo è un argomento, dicono, di preoccupazione di tutti i pontifici che si sono succeduti sin dalla istituzione proprio del fondo pensioni. Giovanni Paolo II e istituirlo con il motu proprio, la preoccupazione del 1992. Benedetto XVI nel 2010 aveva approvato l'istituto della contribuzione volontaria per il personale iscritto al fondo pensioni, che alla cessazione del servizio non aveva maturato il diritto alla pensione. Il tema di questo lavoro è sempre stato centrale in Vaticano perché i conti non tornano più, perché la pensione era stata ipotizzata, come vi dicevo prima, un qualcosa di breve. Vai in pensione qualche anno e poi vieni richiamato dal Signore. Visto che il Signore adesso non richiama così velocemente, mancano i soldi. Ecco. Bene. Bene. A questo punto, per esempio, il problema si sposta anche in Vaticano, come vi dicevo prima, dall'Italia anche al Vaticano. L'allungamento della vita porta a un aggravio per il sistema pensionistico. Per esempio in Italia, in quasi la metà delle province, già i soldi che escono per pagare le pensioni sono maggiori di quelli che entrano per pagare le stesse pensioni. E come vi dicevo prima, si presume che per il 2028 il sistema sarà completamente fallito, cioè il totale delle province italiane pagheranno più pensioni, avranno da far uscire più denaro di quello che entra proprio per pagare le pensioni. E per ovviare al fallimento evidentemente o si diminuisce l'importo della pensione o si aumenta l'età pensionabile. Quindi ormai quello che era una volta andare in pensione a 58 anni, non so se vi ricordate, almeno i nostri genitori sono andati in pensione a 58 anni. Ora andare in pensione a 58 anni è assolutamente un sogno irrealizzabile. Oggi si va verso anche i 75 anni, un giorno a 75 anni ancora dovrai uscire la mattina alle 6 per andare a prendere il treno, per andare in ufficio a timbrare il cartellino. A 75 anni, no? Beh, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata a tutti quanti.